Avanti, patacca, vingasca, oggi salta il ritmo della patacca, voglio vedere tutte le mani in alto, anche il pubblico, vai, vai, sulle mani che non mi sento abbastanza di anni, non mi sento abbastanza di anni, ma allora è arrivato il momento, Miss Patacca Vigliacca 2007, è la numero 5, Gloria Montaldi! Applausi, applausissimo! Brava Gloria! E allora un applauso per tutti per il Flore Montaldi, venendo incoronata da Nauri Piracini, che passa la corona, la nostra Florella Montaldi, la Miss Patacca Vigliacca 2007, e allora i suoi Riti sono tutti per i fotografi, naturalmente, perché arrivano loro, la loro gioia, allora, ci spiegiamo tutti! Allora, vogliono più avanti per la foto di Rito! Allora, eccomi qui con il sindaco! Riti sono tutti per i fotografi, naturalmente, perché arrivano loro, la loro gioia, allora, ci spiegiamo tutti! Vedo che siete giunti i carichi qui, così, perché in Romagna ci piace la patacca. Buon Vettuto! A me mi piace la patacca, quella migliacca Joe, 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 patacca, Joe, 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 migliacca Joe, 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 patacca, Joe, 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 migliacca Nella patacca e adesso è il trenino del samba brasiliano